Sabato 2 luglio 2022, seconda tappa del Tour de France Roskilde-Niborg, 202,4 km. Tappa caratterizzata da numerose cadute, soprattutto nel finale. Vince in volata Jacobsen con il tempo di 4 ore 34 minuti e 34 secondi. Seconda piazza del podio per Van Aert, terza per Pedersen, quarta per Van Poppel e quinta per Philipsen. In classifica generale Van Aert si trova al primo posto con il tempo totale di 4 ore 49 minuti e 51 secondi. Seguito ad un secondo da Lamp Aert, ad 8 secondi da Pogacar, da Ganna ad 11 secondi e a 12 secondi da Pedersen. Maglia gialla quindi che passa a Van Aert, che è primo anche per la classifica della maglia verde. Maglia a poire per Nielsen e bianca per Pogacar. Prossima tappa domani 3 luglio 2022, Veile-Sondenborg, di 182 km. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Per le prossime notizie iscriviti al canale e seguimi sui social. Non dimenticarti un like, mi fa piacere. Un saluto sportivo da Lucoral. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video.